Eccoci, Rovazzi, Rovazzi, bravo, grazie, bravo, l'hai successo, complimenti, hai detto vai Rovazzi, ora è il momento di farne un altro di successo, ma ieri al trovato, non c'è in realtà, andiamo a comandare, lei non lo fa e portiamo via la vita, Rovazzi, lei è nostro per i prossimi 20 anni, però io Rovazzi, la gente come lei la conosco, sa, piace ai bambini, piace ai mammi e quindi no parolacce, per questo motivo nella struttura l'abbiamo affiancato una professionista della città, ora Enrico ci penserà bene, ora vada Rovazzi, vada, vada, credi, credi, con me, anche io mi piace ai giovani che Chrome choices che stanno nel computer, sui temporaino, faster, grazie, bravo, Instagram, bellissime, vada, vada, vada. Rovazzi, Rovazzi, Rovazzi. Vai Pixi! 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 Grazie a tutti i nostri amici, grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti.